Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo al sesto episodio di Mass Tour Skilling Tour 50 Goals Arriveranno altri episodi, c'è stato qualche problema ma torneremo con altre skills E partiamo subito con la prima partita qui con Carrillo, ottime le finte del giocatore della mia squadra Riesco quasi a penetrare un gran tiro deviato, arriva a Bolassi e sembra già essere l'1-0 al quindicesimo Ma l'assistente dell'arbitro ci fischia il fuorigioco e quindi è rimandato l'appuntamento con il gol in questa partita Ma inizia benissimo visto che qua Amrabat con un ottimo Ronaldo Ciop riesce a servire Bolassi che è da solo di nuovo davanti al portiere avversario Ma spreca questa ottima occasione, qui Mass Tour dialoga con Amrabat, palla larga per Yannick Bolassi e perde un po' tempo Ma serve finalmente Mass Tour con un dribbling riesce a entrare nella difesa avversaria Un ottimo Ronaldo Ciop, una Veronica per rientrare e colpiamo il palo Ci siamo avvicinati all'undicesimo gol e naturalmente al 45esimo inoltrato prendiamo il gol dall'avversario Con un'ottima azione e un tiro preciso di Payet Quindi diciamo non proprio bene questo primo tempo visto che abbiamo sprecato molto e abbiamo subito preso gol Ma nel secondo tempo ci riproviamo subito con Mass Tour che qui viene falciato incredibilmente Non viene neanche ammonito l'avversario però qui un'ottima palla davanti alla porta Amrabat cestina questa occasione Quindi non siamo riusciti a concludere niente Seconda partita contro una squadra della Barclays davvero molto solida sulla carta E sempre alla ricerca dell'undicesimo gol con Mass Tour Qui una fake Rabona, un'ottima finta per penetrare Provo il siluro e la palla diciamo simile a palo sinistro Qui ancora Mass Tour serve dentro Carrillo e finalmente riusciamo a portarci in vantaggio Dopo una sconfitta dovevamo assolutamente recuperare quantomeno la vittoria di Amrabat Ottima finta per giocarsi gli avversari Riesco a liberarmi sempre con una Veronica Vengo falciato ma non c'è il rigore per l'arbitro Secondo me molto dubbio questa occasione Qui ancora cerco di penetrare con qualche sis con Bolassie ma non va a buon segno Qui invece Mass Tour fa un'azione incredibile elastico Ciò riesco a penetrare dentro Palla messa in mezzo il Rabona per Amrabat Che deve soltanto appoggiare la palla alle spalle del portiere Rivediamo questa ottima azione di Mass Tour Un ottimo Rabona cross Una finta di Carrillo E c'è il gol di Amrabat Quindi si conclude qui questo sesto episodio di Mass Tour skilling to 50 goals C'è stato un assist in Rabona di Mass Tour Ma non è niente male Detto questo ciao a tutti ragazzi al prossimo video Grazie a tutti